quindi direi che è la super favorita di questo derby. Dal punto di vista tattico, solo indovinando tutte le mosse tattiche, ma proprio tutte, il Genoa può sperare di fare risultato. Poi bisogna solo affidarsi al detto che la palla è rotonda e vedere che cosa succederà. Per le tifoserie direi che è un momento particolare la tifincere, teme solamente la legge dei grandi numeri. Quella del Genoa ha un po' di paura, in questo momento ha paura che la sua squadra possa essere travolta. Bisogna solo aspettare il verdetto del campo, vedere che cosa succederà. Direi comunque che se dovessi fare un pronostico direi 2-0 per la Sampdoria. Grazie Edoardo Bozzano, scaramantico soprattutto. È una squadra che è in testa della classifica, che sta giocando a mille e quindi diventa difficile per il Genoa contenere questa squadra che in questo momento è fortissima. Forse i Bagnoli, chi metteresse su via le mancini? Ci vorrebbe la Madonna della Guardia per contenerli tutti e due in questo momento. Quindi affidiamoci un po' alla cabala, alla sorte? Più che altro la Madonna, direi. La causa che il derby sfugge ai pronostici che è una partita particolare, eccetera, è talmente netto il divario tra le due squadre e che razionalmente uno deve dire vince la Sampdoria e anche con un certo margine. Io penso che il Genoa potrebbe salvarsi se piovesse tanto. A un certo punto deve succedere qualcosa che snatturi il fatto tecnico. Probabilmente il centrocampo della Sampdoria, anche col terreno pesante, pesantissimo, è nettamente più forte di quello del Genoa. Era solo per dire che per esempio anche il derby di Milano di domenica scorsa, il favorito poteva essere un tantino il Milan e poi ha vinto l'Inter. Il derby è una partita anomala, la trovo sempre anomala, perché la giocano anche sugli spalti questa partita. Però guarda, il derby è una partita che sfugge a tutti i pronostici, però a Genova rivince sempre la Sampdoria. Anche quando le squadre erano più o meno della stessa forza, vinceva sempre la Sampdoria. Come può il Genoa vincere adesso, che c'è una notevole differenza tecnica?